L'Istituto Comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano ha partecipato a Ciaxigit 2019 occupandosi della tematica ambientale prendendo spunto da Greta, l'attivista svedese che si batte per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico. La ragazza ha iniziato ad imporsi al governo svedese affinché riducesse le emissioni di anidride carbonica e attenzionando il problema a livello mondiale. I alunni dell'Istituto Comprensivo Ottaviano, accompagnati dai docenti, hanno realizzato anche una scenografia utile alla realizzazione del video finale. Ti è piaciuto lavorare in questo cortometraggio? Sì perché comunque è stato molto divertente e naturalmente anche impegnativo perché non avendo mai fatto teatro non sapevamo recitare tanto bene. Qual è stato il tuo ruolo all'interno di questo cortometraggio? Il mio ruolo è stato a fare l'alunna, la parte buona che vuole far partecipare a tutti quanti per la manifestazione di Greta. Ti sei trovata bene a lavorare con Gianni? Sì, mi sono trovata benissimo. Secondo te qual è il messaggio finale di questo cortometraggio? Insegnarci a rispettare l'ambiente che ci circonda. Qual è stato il tuo ruolo all'interno di questo cortometraggio? Una ragazza che non vuole studiare e che ne approfitta di questo sciopero di Greta per saltare la scuola. Qual è la tua considerazione su Chax Gita? È stata una bellissima esperienza, la riferirei e la consiglierei volentieri.